Ah, oggi mi leggo una letterina... Ciao Barbara! Ciao Rolina, stavo per cominciare le letterine Ho aperto questa, adesso vado un attimino Devo fare una cosa un attimo di là, torno subito Anzi, vieni con me, va? Ok! D'accordo, una letterina sola Povera Barbara, non ha letterine da leggere Ci penserò io Iiiiiiii Ecco, molto meglio Adesso saranno almeno 99 Ah, ok, ho bevuto la... Eh? Già ho capito Anch'io! Alice! Eh? Eh? Ciao Barbara, ma quante belle letterine Te ne sduplico per una ferma Ferma, stai calma Eh? Perché? Cosa avresti da dirmi? Le hai fatte tu queste? Io? È la tua convinzione Non ho fatto niente Vero bambini? Che non ho fatto niente? Alice Che fai? Cerchi pure che ti dicano Hashtag Alice non ha fatto niente Basta! Vabbè, leggiamo le letterine Eh, che bello, sì Che bello Adesso Alice Eh? Leggiamo le letterine Cosa stavo dicendo? Credo delle U Ok, Alice ha fatto Guarda che ha combinato Ok, sono diventate un miliardo Letterina di Giulia Questa era la prima che avevo aperta Guardate che disegni Che fantasia Qui c'è una stella che urla Mortadulla Ah, e poi c'è Mulang È bravi Sei fantasiosa da morire Lollina Sì, Barbara Guarda un po' che cosa c'è qui Hashtag gambetta felice Eh, infatti Ormai questa gambetta felice Ha fatto proprio storia E Giulia ci ha raccontato Una cosa tremenda però Cosa? Praticamente Guarda, questo è il suo disegno E questa è la sua letterina Io le ho lette tutte Già prima Tutte, so tutto Già Praticamente Era È andata al mare Ha lasciato la borsa Con le sue lol In macchina E gli hanno rotto il vetro Nooo E gliel'hanno portate via Ha pianto tantissimo Che cattivo Faccio un discorso Guarda, non è colpa Di chi lascia la borsa In macchina Ma la colpa è di chi ruba Non si fanno queste cose Specialmente Rubare cose dei bambini Io non lo so Guarda Ecco, è vero Ha ragione È una cosa bruttissima Eh, guarda Eh, vabbè Pensa che io Quando ero piccola Eh, che ti è successo? Ho pianto tantissimo Ero piccola Ero avuto tre anni Avevo il carrello Della spesa Quello di plastica Quello dei bambini Piccolino Era tutto colorato Era bellissimo Quindi quando andavo A fare la spesa Con mia mamma Mi portavo il mio carrello E facevo la mia spesetta Giusto? Ordinavi le lol No, non c'erano le lol Lollina È vero, è vero Dimenticavo che tu Sei stata bambina Nell'età della pietra Hai finito? E giocavi con Delle foglie Dei rametti Hai finito? Cuccivi i palloni Con la pelle Degli arrivi Lollina Non esageriamo No, c'erano i giocattoli Eh, immagino Sì, i cubetti di legno Lollina Non essere irriverente con me Vabbè Continua Praticamente Ero andato a fare la spesa Poi siamo usciti E mia mamma Ha caricato quella spesa Le cose del carrello E è rimasto per terra Il mio È rimasto fuori dalla macchina Non l'ha preso nessuno Siamo tornati a casa E ci siamo accorti Che mancava il mio carrello Siamo tornati di corsa E non c'era più Se l'erano preso Che cosa triste E infatti Capito Invece Allora una volta Mi racconto pure questo È andata molto bene Forse già la conoscete Questa cosa Le sparì Dallo spogliatoio Della ginnastica Un peluche Che è il suo peluche preferito Corinne Quella come stella Ma grande Della Thai E qualcuno ha fatto Un dispetto Praticamente l'hanno preso L'hanno buttato fuori Dalla palestra Noi non l'abbiamo più trovato E Lara ha fatto Un biglietto Con la foto del peluche Con scritto scomparsa Eccetera E ha chiesto a tutti 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 quelli che entravano E una bambina L'aveva trovato Nel parcheggio Pensate L'aveva pure lavato E ce l'ha riportato Ah lì è tuo fine Anche sì per forza Perché non potete capire Quanto aveva pianto Insomma A voi è successo mai Qualcosa del genere Scrivetelo Se vi vago Scrivetelo nei commenti Se vi è capitato Che avete perso O speriamo Se avete ritrovato Qualcosa a cui Tenevate tanto Io intanto Letterine E siamo arrivati Ad Elisa Elisa Ho 8 anni Ho 5 lol E ogni giorno Seguo i vostri video E questo è il tuo disegnino Sei bravissima Questo invece È il disegno Di Michelle Guardate che carino Ci ha fatto anche Di disegnini E questa cosa di Michelle Mi piace troppo Ha fatto tutto l'alfabeto Con una cosa Per ogni lettera Tipo D come Dino M come Master E U come Dov'è la U? Non c'è U come ultra rara E soprattutto Ha fatto la N Come 99 E poi Ecco la sua letterina Questa è la letterina Di Michelle Che era allegata A questo disegno Poi c'è Giulia Che ha 8 anni Guardate un po' Ha una scrittura bellissima E ha detto che Le fa tanto ridere Lollina Quando dice Meno parole Più apri apri Questi sono i suoi disegnini E poi c'è Una sorpresa Nella letterina Perché ci sono Dei tatuaggini Per Lara E delle figurine Dei miei contro Carino pure Come è stato Impaginato Poi qua c'è Io e Lara Con Punkboy Lollina Alice E questa letterina Bellissima Ce la manda Chiara Che ha 7 anni Qui dentro Invece Chi c'è Ah questo Abbiamo un nome Bellissimo Si chiama Rita Sole Ci ha fatto lui E Sofì Lara Lara più YouTube Uguale amore Che carina Che sei E questa è La sua letterina In cui ci dice Che ha 8 anni E le piacciono Tanto i nostri video Poi Questa è Francesca Che ha 5 anni Già scrive Ragazzi Qui siamo Proprio E ha detto Una cosa bellissima Perché ci ha scritto Che grazie al nostro Tutorial Sul cosplay Sul travestimento Da Lollina Lei quest'anno A Carnevale Si vestirà Da Lollina Seguendo i nostri consigli Andate a cercare Tra i nostri video C'è un Tutorial Per il cosplay Di Lollina Con dei vestiti Che si trovano In giro Cioè non abbiamo Comprato un costume Costoso Ma gli occhiali Li abbiamo trovati All'Emporio La gonnellina L'abbiamo comprata Mi pare su Ebay A pochi euro La magliettina All'OVS E le scarpettine Alla Deitchman Tipo Ma costavano Tipo Meno di 7 euro Insomma con poco Abbiamo fatto un vestitino carino Che Lara può mettere Anche gli altri giorni Poi Qua c'è Martina Questo è il suo disegno Carinissimo E ci chiede di fare Altri Lara Tutorial Sì ne faremo altri Lei dice che ha fatto Quelli di quest'estate E le sono venuti Benissimo E lei ci scrive Questa cosa qui E ci mette anche Questi bei disegnini Ci ha messo anche Stellina Guardate qualcosa Da mangiare No Mai una gioia Questa è Gaia Guardate che carino Tutto colorato E lei ha 9 anni E ci ha messo Il bollino Delle lol Invece qui c'è Angelica che ha 11 anni Ed è proprio L'orgoglio lol In persona Giusto Perché lei ha detto Che è andata in prima media E si è comprata Il diario delle lol Mi pare ovvio E ha detto Forse per questo La prenderanno un po' in giro Ma lei già aveva Pronta la sua battuta Che quando le avrebbero detto Ah le lol Alle medie Sono da piccola Lei avrebbe detto Questa è una tua convinzione Ecco E poi Non mi ricordo Qual è stato il video Che mi ha convinto A iscrivermi Ma so che quel video Mi ha fatto fare La scelta più bella Di sempre Che carine che siete Poi qua c'è Fiorenza Fiorenza Allora c'ha scritto Questa letterina E dice che Il suo personaggio Preferito Sono io No è Stella Ha ragione Stella è troppo simpatica È vero Stella è buffa È buffa Ed è carina Cicciottina Questo è il disegnino Di Ren Sei bravissima E ha 8 anni E dice Che ci segue Da quando abbiamo Scartato Lollina E qui c'è Allegra Allegra tra l'altro Mi sa che c'è già scritto Vieni con me Stella I'm caticorn Guardate che carina È troppo bella E qui c'è anche La sua letterina Ah infatti c'è scritto Allegra Vi ho già mandato una letterina Sì sì A me la ricordo Poi Qui c'è Viola Che ci ha fatto una letterina Molto professionale Stampata E ci ha messo Queste tre LOL E ci ha detto Che la cosa che adora Nel nostro canale Sono le favole Delle LOL E Master LOL Un'altra cartolina Allora Questa cartolina Ce la manda Chiara Che è di Lucca E ci ha scritto Si sarete a Lucca Comics Chiara ci siamo visti? Perché questa letterina Tu me l'hai mandata ad agosto Però io non so Se sei una delle Chiare Che ho visto in fiera Dimmelo se eri a Lucca Comics Perché mi farebbe Molto piacere saperlo Poi Questa è infatti La letterina di Chiara Mi fanno tanto ridere I vostri video Perché non Ok Non dite parolacce Ma infatti Non serve dire cose Volgari Secondo me Mi piacerebbe moltissimo Se Alice conducesse Un suo programma tv Ecco Sottoscrivo Era ora Che qualcuno Cominciasse a capire E dice Che la sua LOL Preferita È Cosmic Queen Come la chiamiamo noi La Bitorsaluta Perché ha tutti i ciuscetti Sapete che quando ero piccola Io me lo facevo Con la pettinatura Mi piaceva troppo Invece qua ci sta Due sorelle Di 11 e 6 anni Ci siamo conosciute Attraverso Lilla Ragazzi Che bella cosa Elisa e Chiara Questo è il nome Delle due sorelle Dal canale Erano fan di Lilla E dal suo canale Sono approdate al nostro E vedo che anche Molti di voi Vanno poi sul canale Di Lilla E diventano fan di Lilla Quindi questa cosa Mi piace tantissimo Perché io e Lilla Siamo molto amiche E quindi è bello Che anche voi Guardiate tutti e due i canali Quindi se non conoscete Lilla Andate a iscrivervi pure Al vostro canale Se siete fan di Lilla E volete venire di qua Siete sempre benvenuti Poi qua Ecco questi erano Gli altri disegnini Sempre di Elisa e Chiara Poi qui c'è Erika Che ha un cognome bellissimo E che Ha 6 anni Ci ha disegnato Queste belle cosine Qui c'è Letizia Che ha 8 anni Guardate un po' Che carine le sue lol E poi abbiamo Anche Lucia Che ci ha fatto Questa Popop Con scritto Vi adoro E vorrei tanto essere Amica di Lara Allegra Questo è il tuo disegno Con delle collanine Per le nostre lol E tutti questi colori bellissimi E questo è il disegnino Di Azzurra Che ha 8 anni E ci scrive Da Bari Che altro è rimasto Qui? Allora Questa è Francesca O Francesco Sai che non capisco Se è una A o una O? Perché L'ho letto Anche nella tua cartolina E non riesco a capire Se è una A o una O Però Franci Grazie della tua letterina Chiunque tu sia È bellissima E qui ci stanno Barbara Lollina Lara Alice E Questa sarà La nostra Appunto Alice Poi qui è Francesca Che ci fa vedere La sua Lollina E la sua Alice Viste da lei Con il nostro Miau E la mia pettina La nostra tecnicamente E questo è La sua letterina Guardate quanto Scrive bene 5 anni Anche tu scrivi Brava Letterina Di Asia Asia È carinissima La Stella Come ce l'ha disegnata Voglio Un altro Quindi qui ha mangiato Stella Però non le basta E vuole ancora Cioè Miau Che è buffo Quindi ha messo I nostri personaggi Più buffi E questa è un'altra cosa Molto bella Io vorrei lanciare Un hashtag Che ho già Segnato su Instagram E praticamente Selfie con Babu Ecco Praticamente È come se Giusto Ho già capito Tu hai già capito Non c'è la ra Ho già capito tu Praticamente Se ci incontriamo E facciamo la foto insieme E la volete pubblicata Anche sul mio profilo Perché io non metto mai Le faccine dei bimbi Se non di mia iniziativa Voi mettete l'hashtag Selfie con Babu E io lo vedrò Stessa cosa Se mi volete mandare Anche via Instagram Una disegno Con voi e me Anche disegnato Questo è un selfie disegnato Li metterò nelle stories Man mano che arrivano Quindi questo È come se fosse un selfie Secondo me Mi piace troppo Allora Andiamo avanti Questa è Maria Francesca Guardate che carino L'ha pitturato Guardate un po' È bellissimo Il tuo disegno Sono veramente brava Mentre Martina Ci fa questo bellissimo Miau Poi Questa letterina Senza il nome Non so come ti chiami Però sicuramente Ti riconoscerai Quindi l'ho vista L'ho aperta E ti ringrazio tantissimo E poi qui c'è Giorgia Che ci ha scritto Che ha sette anni Ci vede ogni giorno Su Youtube E questa ha fatto Tutta la famiglia Ha fatto Lara Lele E me Ed Emiliano Emi Che sarebbe il papà Di Lara E Lele Cioè mio marito Grazie Giorgia È bello Quando ci fate a famiglia E poi qua c'è una sorpresina Chi c'è qui dentro? Eh C'è qualcuno Una Lil Non te lo dico Una Loll Non te lo dico E allora Cosa aspetti Apri Allora Questa è una nostra amica Ci ha già scritto E questa bambina Si chiama Atena Diana Io i regalini Li ho già scartati Perché intima Mentre facevo tutto L'ho trovata Ve l'ho voluta lasciare Per ultima Per lasciarvi un po' Di suspense Allora Lei ci aveva già scritto E Te la ricorderai Atena Diana Siii Lei ci ha regalato Midnight piccolina Brava Lollina È proprio lei E ci ha mandato Anche un sacco di regalini E a dicembre Lei ha 6 anni Ma a dicembre Ne compie 7 E Scrivi benissimo E guardate Quello che spettacolo Di disegno E ci ha fatto Youtube Con la corona Lollina Questo è per te Perché sono una regina Di Youtube Eh già Diciamo di sì Sei veramente top E poi qui C'è la nostra stella Ditemi subito Dov'è il frigo Ecco C'è un pensiero fisso Quella Eh sì Ma adesso dove sta Secondo te Non so È un po' che non la vedo Non è che è in frigo Veramente Controlla Se apri il frigo È vuoto Sì Hai ragione Giusta osservazione Siete pronti A vedere che regalini Ci hanno mandato Lollina Lollina Allora Ci sono due cose Fermati Ci sono due cose Che erano per Alice Ecco Ti pareva Guarda Questi sono Delle cose Per Alice Sono degli squishini Meravigliosi Degli smushimush Ho sentito bene Sono per me Grazie Ma scusami Tu sei sempre svampita Non senti mai nulla Ti pare Che adesso ha capito Poi ci sono Dei braccialettini Per Lara Guardate che carini Con la L di Lara Ce n'è un altro Guardate che brava La fatti lei Questa è con la B Per me Questa invece Per Larina E poi C'è questo pacchettino E c'è scritto Tipity Lil Quindi c'è una Lil Sì Siete curiosi Di vedere chi è Posso aprire io Vai Lollina L'ho un po' aperto Già prima Chi è Oh È shortstoppina Esatto È shortstop piccolina Se pensate che Di recente abbiamo aperto Anche shortstop Che è arrivata In un pack surprise Abbiamo fatto la coppia Grazie a voi Grazie ragazzi Questa era un'altra carrellata Della nostra posta La vostra posta Ci riempie il cuore Grazie per tutto quello che scrivete Io ve lo dico sempre Mettete poco scotch Quando mandate le cose E vi lo ripeterò per sempre Quando ci mandate delle bamboline Non serve Ci basta anche soltanto un disegno Noi siamo sempre contenti Lo stesso Quindi se avete un doppio È una cosa Se no non vi togliete Giocattoli per noi Allora Che altro vi devo dire? Grazie per aver visto le letterine Iscrivetevi al canale Diventiamo sempre di più Qui c'è il fiorellino di Babu Per iscrivervi al nostro canale Qui un po' di letterine E un po' di video Scusatemi Da vedere dopo E io Adesso che cosa dico? Cosa dici? Quello che dici sempre? E cos'è che dici sempre? Un bacio a tutti quanti Ciao 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 Grazie a tutti.